non può fare un'opera ma questo dobbiamo dire noi oppuletto sotto l'opera non ho pensato di ruolio non ho pensato di ruolino non ho pensato di ruolino non ho pensato di ruolino non è che lei non è che lei non è che lei la storia di casa ma sta chiarizzando una cosa non è che lei non è che lei mi ha pensato di essere un appena no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.